io partirei da qua la guerra in ucraina le proteste in iran il terremoto in turchia in siria le tensioni tra la cina e taiwan e gli stati uniti due anni di pandemia che hanno provocato milioni di morti e una brutta botta l'economia mondiale le alterazioni climatiche sotto gli occhi di tutti che causano disastri ambientali sembra proprio che viviamo in un mondo in bilico e se osserviamo il futuro prossimo da qui almeno due sentimenti ci vengono all'animo due sentimenti contrastanti da un lato il desiderio che il futuro sia migliore del presente dall'altro invece la preoccupazione che possa essere peggiore che possa peggiorare tuttavia avere desideri e preoccupazioni per il futuro è a ben vedere un lusso che spesso sottovalutiamo infatti in senso stretto avere desideri e preoccupazioni non lo possiamo applicare al passato ad esempio ma neanche al presente il presente troppo fuggevole e troppo momentaneo e troppo istantaneo desideri e preoccupazioni faticano ad afferrarlo una volta che desidero o mi preoccupo nel presente e del presente ecco che quell'attimo lì è già passato ma col futuro è diverso perché il futuro sta in una relazione con l'essere in un modo diciamo così diverso rispetto al passato al presente questo ragionamento ci fa capire che stiamo facendo una riflessione sulle tre categorie del tempo nel loro statuto di esistenza il passato è ciò che è stato e perciò stesso è immutabile è intoglibile ed è innegabile un fatto passato in sé non può essere eliminato dalla storia lo possiamo tutt'al più reinterpretare e questo ci dice che la storia il passato è un abbondanza di cose di persone di azioni di gesti usando un termine filosofico il passato è una sovrabbondanza di enti ma ci dice anche che il passato è il ricettacolo dei nostri pensieri e dei nostri ripensamenti che continuamente si ripresentano in sostanza il passato si offre al presente in modo ermenentico il presente invece è ciò che è è un essere innanzi presente significa appunto essere innanzi è un essere innanzi nel flusso del divenire del divenire altro da sé ovvero sia del divenire passato è uno spazio continuo di confine tra l'essere e l'essere stato un confine molto mobile se volete e l'essere che caratterizza il presente ha proprio per questo la qualità della inafferrabilità e della instabilità allora per avere a che fare con gli enti che popolano il presente dobbiamo esercitare la capacità di proiezione oltre il confine del presente la proiezione che è un'intuizione che qualcosa esiste anche nell'istante successivo all'adesso il presente quindi è vero che è un essere nel divenire continuamente passato ma è anche un essere che spinge al da venire e il da venire è illegale con il futuro il futuro in quanto da venire è ciò che non è ancora e questo ancora determina che il non essere che caratterizza il futuro è in realtà una modalità di essere è l'essere nel modo del non essere ancora non si pensi quindi che il futuro sia uno spazio vuoto sia totalmente inesistente al contrario il futuro è traboccante di enti che non sono ancora diremo allora che è traboccante di niente ossia è un'apertura verso ogni ente che attende di essere nel presente e non uso a caso il termine attendere perché viene dal latino e significa tendere verso il niente così come lo stiamo configurando che attende di essere esiste nella modalità della proiezione ossia del gettarsi avanti gettarsi avanti verso il presente questo niente è squisitamente progettualità è lo spazio della potenzialità e se parliamo di potenzialità non possiamo non ricordare qui aristotele che definisce gli enti secondo due categorie appunto la potenza che non è un non essere ma è un essere come niente e l'atto che è l'essere nella modalità del presentarsi dell'essere presente aristotele sottolinea tra l'altro come non vi è nulla che sia in atto e che non sia stato prima in potenza ovvero sia tutto ciò che è in atto è necessariamente stato prima in potenza ma non è necessariamente vero il contrario ciò che è in potenza potrebbe non tradursi in atto e questo ci dice due cose la prima cosa è che l'essere in potenza è uno statuto originario di ogni essere in atto e la seconda cosa è che esistono almeno due tipologie di essere in potenza un essere in potenza immediatamente attualizzabile e un essere in potenza non immediatamente attualizzabile e per capire queste due tipologie lasciatemi fare due esempi nel primo caso immediatamente attualizzabile immaginiamoci un medico che dorma sonni tranquilli nel suo letto di notte in quel caso durante la notte durante il sonno il medico non è medico in atto è una persona che dorme ma è immediatamente attualizzabile come medico cioè diventa immediatamente medico in atto una volta che si svegli metta il grembiule e vada a lavorare in ospedale per quanto riguarda il futuro scusate la potenza non immediatamente attualizzabile immaginiamoci un bambino alle scuole elementari il quale è potenzialmente un medico qualora decidesse da grande di fare l'università la facoltà di medicina e andare a lavorare in ospedale ma non è detto che diventi medico potrebbe ad esempio diventare un ingegnere allora questi due tipi di potenza ci rinvia all'idea di progettualità di cui parlavamo prima che caratterizza il futuro e apre al concetto di futuri al plurale paralleli ci faccio è capire che possiamo osservare i futuri con due lenti ci sono futuri a portata di mano immediatamente realizzabili ci sono futuri remoti non immediatamente realizzabili ora per quanto riguarda i futuri a portata di mano mi piace qui scomodare il concetto di adiacente possibile coniato dal biologo steward kaufman kaufman osserva come nella storia diverse scoperte siano state fatte indipendentemente da diverse persone ma nello stesso periodo di tempo faccio tre esempi giusto per dare l'idea nel settesimo secolo newton e leibniz sono arrivati al calcolo infinitesimale proprio negli stessi anni però indipendentemente l'uno dall'altro tant'è vero che ci fu pure una disputa per stabilire chi fosse stato il primo a scoprire il calcolo infinitesimale tra il 1772 il 1774 priestley e scele hanno indipendentemente isolato l'ossigeno e tra il 1842 il 1844 mayer jowl e kolding hanno indipendentemente l'uno dall'altro scoperto la legge di conservazione dell'energia kaufman sostiene che questo accade perché per tornare a una terminologia tipicamente aristotelica ogni periodo storico ha in incubazione dei segnali di enti in potenza che hanno raggiunto il limite verso la loro attualizzazione questo è l'adiacente possibile ossia un futuro ombra in bilico sul bordo del presente non lo vediamo ancora ma è a portata di mano perché possiamo scorgerne i segnali e quello che siamo chiamati a fare in tal senso è proprio allenarci a individuare questi segnali per usare una metafora un'immagine è come se noi stessimo in una stanza che è il presente sulla quale danno varie porte chiuse gli adiacenti possibili le porte sono adiacenti perché sono nella stessa stanza in cui siamo anche noi e sono possibili perché le possiamo aprire e possiamo entrare nel futuro a portata di mano che sta oltre la porta ma il punto è trovare la chiave giusta per quanto riguarda invece i futuri remoti possiamo fare riferimento a un pensiero del filosofo Slavoj Zizek il quale propone uno slittamento categoriale se volete un gioco cioè considerare il presente non come presente ma come futuro del passato e quindi applicare un esercizio intellettuale attraverso cui tracciare gli avvenimenti che hanno portato quel passato a divenire questo presente cioè a divenire questo futuro del passato tutto sommato questo è quello che si fa normalmente quando si studia la storia ma la sollecitazione di Slavoj Zizek va oltre in questa cornice infatti possiamo anche considerare il presente non solo come futuro del passato ma come passato del futuro e dunque immaginare il futuro come presente del passato che è il nostro attuale presente e qui questo gioco di slittamenti cronologici ci porta a muoverci nel futuro remoto e a chiederci cosa ho fatto nel 2023 e negli anni da venire che mi ha portato alla condizione del mio presente futuro o del mio futuro presente e ricomponendo il flusso cronologico la domanda allora diventa cosa devo fare oggi per iniziare ad andare verso il futuro remoto che voglio ora il concetto di futuro remoto potrebbe sembrarci inapplicabile ad esempio nell'ambito imprenditoriale che è quello che ci proponiamo di indagare ogni anno in questo convegno tuttavia non è così è un esempio come si può fare ci viene dalla nuova zelanda paese in cui un gruppo di imprenditori maori ha fondato una società la wakatu incorporation che in sé ingloba aziende che si occupano di robotica avanzata per l'agricoltura aziende agricole e aziende che operano nel settore della ricezione e della enogastronomia ebbene questi imprenditori maori hanno fondato la wakatu incorporation basandola su un valore tipico della cultura maori che si chiama te pae taquiti te pae taquiti lo traduciamo come orizzonte lontano si tratta di un futuro remoto nel quale nessuno di noi ci sarà più nei nostri figli nei nostri nipoti ci saranno invece i nostri pro 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 nipoti e proprio incarnando questo valore di orizzonte lontano che la wakatu si sviluppa sulla base di un piano industriale di un business plan di 500 anni ovviamente noi non sappiamo se la wakatu esisterà tra 500 anni ma avere un business plan basato sul te pae taquiti ci porta a considerare che ogni piccolo passo fatto oggi deve essere necessariamente un'autentica eredità che si riceve dal passato e un'autentica eredità che si dona al futuro o meglio ai futuri possibili ossia quel niente che attende di essere presente di essere ente e paradossalmente più l'orizzonte lontano e più devo stare attento a calibrare bene i passi che muovo oggi per essere sicuro infatti che ogni istante presente sia presupposto del da venire nella successione che mi porta all'attualizzazione di una certa potenzialità quella che voglio piuttosto che un'altra ed è qui che rientra in modo prepotente il concetto della scelta il discorso sull'essere in potenza di aristotele ha messo in evidenza prima che ogni cosa in atto è stata necessariamente in potenza ma non è necessariamente vero il contrario e questo determina che finché restiamo nell'ambito del niente ogni potenzialità resta possibile ma quando passiamo all'atto solo una potenzialità si realizza mentre tutte le altre infinite potenzialità si annullano attualizzare significa chiudere di volta in volta tutti i futuri possibili meno uno è un po come scommettere di volta in volta su un unico cavallo su un unico ente attuale ma il cavallo potrebbe perdere la corsa potrebbe essere il cavallo sbagliato ed è proprio qui che la scelta diventa massimamente rivestita di consapevolezza ma consapevolezza di cosa beh di qual è il futuro che voglio tra tutti i futuri possibili e come fare affinché quel futuro diventi attuale allora pensare i futuri ci chiama anche a saper desiderare il futuro migliore ossia desiderare che il niente migliore diventi ente e anche impegnarci il più possibile affinché lo diventi in buona sostanza tutto questo non è altro che tracciare o dare forma al futuro dei futuri e siccome questo dare forma si nutre della nostra capacità di desiderare in modo consapevole quale futuro e di dare in modo consapevole una forma a questo futuro una forma attuale allora ogni discorso sul futuro ha in sé una natura squisitamente erotica amorosa eros infatti è il desiderio ma è anche il protendere verso ciò che si desidera ecco perché il futuro dei futuri non può che presentarsi secondo una fenomenologia amorosa e come abbiamo visto questa fenomenologia amorosa non può che riguardare il niente nella sua predisposizione a divenire ente o meglio presente ossia ciò che oramai ci sta innanzi e perciò stesso ci dobbiamo per forza avere a che fare la fenomenologia amorosa del niente assume qui i tratti concreti dell'incontro confronto con la realtà con il tangibile con ciò che di volta in volta occupa assieme a noi il nostro spazio e non possiamo togliere più perché è oramai entrato di diritto nella storia e quindi il suo destino è per sempre nel passato in modo immutabile questa considerazione ci consente di muovere l'ultimo passo del nostro ragionamento ossia la fenomenologia amorosa del niente ci consente di sovvertire o se preferite di correggere la visione usuale delle cose non è come spesso si pensa sul passato che costruisco il mio futuro ma è l'approccio erotico al futuro così come l'abbiamo descritto che mi consente di consolidare il migliore dei passati ossia la migliore collezione di enti immutabili perché passati che si offrono ermeneuticamente allo sguardo del presente ebbene in questo rovesciamento ritengo ci sia appunto l'impresa fenomenale di tutti i pensieri di futuro e proprio in questo rovesciamento in questa impresa fenomenale ci accingiamo appunto ad entrare con le cinque sessioni del convegno cinque sessioni che si svilupperanno stasera domani sera e dopo domani sera e che sono rese possibili grazie alla gentilezza e alla disponibilità delle nostre relatrici e dei nostri relatori